La partita è stata una partita, abbiamo giocato la partita che volevamo, nel senso che il piano partita era quello di dare una direzione subito nel primo quarto alla partita, perché chi ha visto partite di basket sa meglio di me che quando queste partite sono partite, come dicevo, in serie di presentazione, emotivamente difficili da giocare, quantomeno più che difficili complesse, complicate, perché quando poi c'è una posta in palio importante, se non dai una scossa vehemente all'inizio può succedere che alla fine ti trovi a giocarti la punto a punto. Noi siamo partiti con autorità partendo dalla difesa, credo che questa sia stata la cosa importante, perché poi i canestri prodotti in contropiede sono stati frutto della nostra aggressività difensiva. Secondo quarto, Napoli è stata brava perché nonostante che noi mantenessimo la stessa scelta difensiva, sono passati più la palla e quindi ci hanno impedito di correre e hanno fatto sì comunque di rimanere in partita. Noi durante il secondo, il terzo quarto, forse abbiamo rallentato un po' il ritmo, però non è facile comunque giocare quando sei avanti 15-20, perché comunque hai la sensazione di avere un vantaggio sufficiente. Io ho insistito molto con i ragazzi di continuare a difendere, a pressare, avete visto un po' di rotazione allungata, abbiamo speso i falli, abbiamo speso i falli per mettere pressione alla squadra di Napoli, l'abbiamo fatto secondo me egregiamente, perché comunque poi questa cosa nel proseguo dei 40 minuti alla lunga ha pagato, perché si è visto la differenza di intensità, abbiamo finito la partita increscendo, gestendo il vantaggio e anzi aumentandolo. Quindi per chiudere abbiamo fatto la partita che volevamo in sostanza, quindi di questo siamo soddisfatti. Grazie.